For everyone who thirsts, come to the water, come to the water. Questo lavoro si chiama Le parole nascoste, o The Hidden Sayings. La base del lavoro del studio sono canzoni tradizionali del studio degli Stati Uniti e infatti queste canzoni tradizionali vengono da Africa. Infatti queste canzoni sono molto presenti nel lavoro di Open Programme dall'inizio di esistenza del gruppo. Allora più o meno sette anni che stiamo lavorando intorno di questi materiali. Nelle canzoni ci sono tanti riferimenti verso i testi del testamento, della Biblia. Non è veramente uno spettacolo, nel senso tradizionale del termine. E' una ricerca vincolata a diversi potenziali che si possono scoprire, potenziali che appartengono alla parte interiore della persona, dell'attore. E' una ricerca vincolata a diversi potenziali che si può scoprire, potenziali che si può scoprire, potenziali che si può scoprire, potenziali che si può scoprire. Però come avete visto, il rapporto tra gli attori e gli spettatori, o la gente che viene a vederci, gli individui, non è così, non è come nel teatro. Di qualche modo, stiamo provando di capire, di giocare con queste convenzioni. Perché non è, per esempio, tu hai una compagnia di teatro tradizionale, un grande teatro all'italiana. Questo è un'altra cosa, anche a livello, non solamente creativo o estetico, ma anche a livello di funzionamento, dell'organizzazione, dell'organicità del lavoro tra le persone. Come to the waters, amen, and he who had no money, come.